Sì, ho sbagliato strada ancora e mi sono qui in mezzo a Monaco. Fra 200 metri, se possibile, effettuate un'inversione di marcia e poi tieni la destra sulla A9. Dobbiamo fare un'inversione di marcia. Sì, sì. Se possibile, effettuate un'inversione di marcia. Ecco fatto, l'inversione di marcia. Va bene. Adesso, teniamo la destra. Fra 200 metri, tieni la destra sulla A9. Tieni la destra. Sì, non vi, no resti. Sì, Sburgo, ma bene. C'è un'attro pote, c'è un'attro pote. è stato il turismo mi ha visto anche ora è il Regas Ah, non mi piace.